La seconda recisione è vicina. Procediamo come desideri, comandante. Ma qualsiasi cosa sentiate, andate avanti. Rigenuto. Grazie, Alice. Impostate gli amplificatori, tagliate la connessione di Kalus. E fate attenzione. Vedo la tua nuova protetta, Zavala. Mi chiedo se le hai detto cosa è successo all'ultimo guerriero che hai addestrato. Amplificatore online. Rilevo anche il comandante. Come sappiamo dal Corvo, questi dispositivi saranno utili. Ma il successo dipende dalla gestione dei demoni di Zavala. Non possiamo farlo al posto suo, ma possiamo sostenerlo.